Aruba presenta... Click Cloud Bilancio, budget, budget, bilancio, bilancio Ciao Click, come va il business? Non abbatterti Ma come? C'è Chris, spread, crackdown? Tutto si affronta con le scelte giuste Io so cosa fare Tu non hai bisogno di una nuvola Tu hai bisogno della tua nuvola Incredibilmente personalizzabile Sorprendentemente tecnologica Coraggiosamente trasparente E dannatamente potente! Wow! Click Cloud Cloud.it Fai il salto!